Confermarsi ad alti livelli è la cosa più difficile nello sport ma non per Alessia Ghezzi che dopo il bronzo e i mondiali di Lima e l'europeo in ingueria è riuscita a mettersi al collo la medaglia più preziosa ai mondiali juniors in corso di svolgimento a Leonato nel Bresciano. Alessia ha superato in una palpitante finale la russa Giulia Tugolukova. A decidere loro è stato uno spareggio vinto 4 a 3. In questa breve clip la sua felicità condedica. Sono strafelice, è una gara in cui ho fatto davvero tanti sacrifici. Devo ringraziare innanzitutto mio padre perché è lui che mi ha aiutata nei momenti brutti, nei momenti bui, nelle difficoltà, tutto quello che c'è stato. L'ultimo piattello ho detto no, no, di nuovo no. Poi lo shoot off ho detto va bene, come ho affrontato la gara fino adesso affronteremo anche questo shoot off sempre più carica, sempre più grintosa. Poi al vano lo guardavo perché comunque sia il mio CT, mi dava carica. Gli obiettivi sono tanti, quindi per adesso mi godo questa medaglia, quindi gli obiettivi poi si rifaranno all'anno prossimo. Grazie. Grazie. Grazie.